Nome? Stefano. Cognome? Ronaghi. E che strumento suoni te? Io suono il violino. E com'è che ti sei avvicinato al violino? C'è un motivo particolare che ti ha fatto scegliere questo strumento rispetto ad altri? Allora, io sono sempre stato nel mondo della musica. Ho sempre suonato uno strumento qua, uno strumento là. Prima ho iniziato il pianoforte, poi sono passato a chitarra elettrica. Non mi sono mai trovato uno strumento preciso fino a quando tramite i più grandi artisti violinisti ma contemporanei mi sono avvicinato a questo strumento e ho scoperto un mondo di musica classica, comunque grandi persone, grandi personaggi che mi hanno ispirato a continuare su questa strada. È stupendo. E il tuo sogno nel cassetto è quello di diventare magari un violinista all'interno di un'orchestra rinomata oppure hai qualche altro progetto, qualche altra idea? Allora, la più grande aspirazione che magari potrei avere è trovarmi un quartetto mio, quindi un quartetto d'archi e magari iniziare un progetto tutti insieme. Ecco, questo sarebbe il più grande, spendo un punto a orchestre enormi, insomma qualcosa di piccolino però personale. Nome? Paolo Cognome? Rapuzzi E che strumento suoni te? Suono il violino E come mai ti sei avvicinato al violino? C'è un motivo particolare che te l'ha fatto preferire rispetto ad altri strumenti? Non lo so, una volta suonavo altri strumenti però mi sembravano un po' noiosi, allora ho deciso di suonare il violino, quando ho provato mi sono divertito allora ho cominciato a suonare. E da grande cosa ti piacerebbe fare? Il carabiniere